Ci parli dell'iniziativa Superpartes? Niente, è un network di notai che mira ad innovare profondamente il settore notarile basandosi sulle dinamiche analoge a quelle dei contratti di rete. Cioè noi vogliamo creare una rete di notai diffusa su tutto il territorio nazionale che tramite la collaborazione tra colleghi mira a creare qualcosa che sia differenziante ed innovativo. Il nostro network è un network aperto a tutti i colleghi che condividono il nostro modo di interpretare la professione. Pensa a possibili sinergie con la FIAIP? Sicuramente sì, infatti questa giornata, come ha già detto il Presidente Ronca, è l'inizio di un percorso di possibile collaborazione in quanto io credo che sia fondamentale da un lato che i mediatori investano in formazione e in professionalizzazione. e quindi sia incontri come questo, sia possibili master formativi di più lunga durata che vadano più nello specifico delle materie io li vedo assolutamente favorevoli. Dall'altro lato i notai devono adeguarsi alla realtà del 2016, quindi esercitare la loro professione in strutture più adeguate al mercato come quella del network e quindi credo che dalla collaborazione con i mediatori possiamo imparare anche da questo punto di vista. Allora un saluto, grazie anche al Presidente Ronca, grazie e buon lavoro.